Amici di Gazzetta.it, benvenuti a questo terzo appuntamento con le video chat di mercato direttamente dagli studi di Via Solferino per proseguire nell'analisi di questa sessione invernale che tanto ci appassiona. Per scoprire tutte le novità di giornata e rispondere alle vostre numerosissime domande come sempre c'è il nostro Carlo Laudisa. Ciao Carlo! Per l'immediato probabilmente... Carlo, a breve la Juve incontrerà l'ex Ranieri. Sarà decisiva questa partita per il futuro di Ferrara? Sì, dare in mano una squadra a un allenatore per soli sei mesi. È evidente che... Ti a dare voce ai tifosi e allora partiamo subito con Stefano da Napoli. Secondo te Felipe Melo verrà ceduto dalla Juventus? No, adesso no, ma è probabile anche che alla fine... Allora l'Inter... No, non è una bufola, non è una bufola. In realtà ci scrive Rodolfo. Il fantasista francese Riveria andrà al Barcellona, al Real Madrid o al Manchester United? No. Un lettore, può dirmi quale sarà la futura squadra di Untelar? Ma io ho l'impressione che alla fine il Wolfsburg lo siamo, se il Milan avrà la meglio. A Augusto da Napoli invece ti chiede se a giugno l'Inter realizzerà qualche colpo grosso di mercato. Riesce a fare qualche nome? Beh, i nomi... Feo da Perugia, Amsic, andrà a Barcellona, al Chelsea oppure sarà costretto a rimanere un altro anno col Napoli? Perché? In caso di mancata qualificazione alla prossima Champions, la Juventus per ripianare il bilancio venderà Chiellini o qualche altro big? Poldo da Siracusa, credi che Pato rimarrà al Milan la prossima stagione oppure per ragioni di bilancio sarà sacrificato come è successo con Kakà? Squadre come Manchester City, Chelsea e Real penso siano prontissime a dare un ingaggio veramente alto al brasiliano. Peppe, è vero che l'anno prossimo Marchetti è stato bloccato dal Milan e su quali giovani potrebbe puntare per il futuro? Da Treviso, il Milan con l'esplosione di Borriello continuerà a corteggiare Geko anche se potrebbe dare fastidio un po' a Borriello? Pezzano, vorrei sapere se a fine stagione ci sarà uno svecchiamento nella Juventus con conseguente acquisto di gente giovane con allenatore di mentalità moderna, vedi, allegri, che ci faccia divertire e soprattutto vincere, loro vogliono vincere. Beh, questo è ovvio. In parte credo di aver già risposto, siamo curiosi di vedere, certo un allenatore come Allegri può essere a questo... Modesto, col Genoa, dovrebbe arrivare in prestito e a Bologna c'è anche il nodo Zalaieta, in effetti i dirigenti del Club Rosso Blu vorrebbero, tra virgolette, disfarsi del giocatore, lo inserirebbero volentieri in qualche trattativo, in qualche scambio, avevano puntato anche ad uno scambio con l'Atalanta, proprio con acqua fresca, però si sa, è un'operazione molto molto delicata e quindi è anche difficile realizzazione. E quindi sono di acqua fresca... Siamo veramente in chiusura, come hai detto tu, ci aspetta una settimana davvero calda in chiave mercato, quindi ricordiamo gli appuntamenti... Ne abbiamo bisogno, visto questo tempo. Ricordiamo gli appuntamenti con Calcio Market il venerdì, il lunedì con la tua pillola di mercato e poi il mercoledì alle ore 15 sempre con la video chat. Ciao a tutti, vi aspettiamo! Ciao a tutti!